Nel 2019 fa il debutto sul grande schermo Detective Pikachu, film prodotto di diverse case che riscosse un enorme successo non solo perché primo film live action di Pokémon, ma anche per la qualità del prodotto stesso. Il web impazzì, tanto che trapelarono indiscrezioni su un possibile sequel del videogioco dal quale è tratto il film. Questo accadeva nel 2019. Tre anni dopo. Che fine ha fatto Detective Pikachu 2? Perché sono emerse nuove informazioni. Tre settimane fa. Quindi con i tempi di internet sono mesi e non settimane. Ma quali sono queste nuove informazioni trapelate? A quanto pare a dicembre sono usciti due giochi remaster, Monster Rancher 1 e Monster Rancher 2 Deluxe Edition, per Nintendo Switch. Il gioco ha fatto parlare di sé fin da subito, non tanto perché il brand che era morto e sepolto di Monster Rancher torna in auge su Nintendo Switch, tanto quanto per il fatto che in questo videogioco tu potevi creare dei mostri inserendo dei CD musicali o dei CD di altri giochi per PlayStation 1 a suo tempo. E con Nintendo Switch ovviamente possiamo fare la stessa cosa, ma non inserire dischi. Eppure Monster Rancher prende informazioni sui videogiochi da un server di Nintendo. Così sembra. Perché dico così sembra? Andiamo a vedere questa immagine. Vuoi generare un mostro da questo CD? Ovviamente qui non si parla di CD né di cartuccia, tantomeno di gioco per Nintendo Switch, ma sta prendendo i dati da un server che non sappiamo se è di proprietà Nintendo o di proprietà di chi detiene i diritti del gioco. Ma anche fosse di proprietà di chi detiene i diritti del gioco. Qui fanno sapere che potrebbe essere in uscita il sequel di Detective Pikachu. Senza titolo tra l'altro. Artista Nintendo ovviamente. Ma peggio ancora. C'era un articolo multiplayer riguardo la questione. Altre prove hanno restituito risultati come Metroid Prime 4 e Breath of the Wild sequel senza titolo. Resta il dubbio sulla fonte a cui Monster Ranger 1 e 2 Deluxe possa attingere per trovare i giochi, visto che difficilmente può collegarsi a informazioni riservate riguardanti il database di Nintendo eShop. Ragioniamo un attimo. Possibile che i giochi si colleghino a server Nintendo? Possibile che i giochi si colleghino al Nintendo eShop e diano informazioni riguardo giochi che ancora non esistono? Nel 2019, il 29 maggio 2019, un tweet di Pokémon dice che volete nuove avventure con Detective Pikachu? Ci sono piani che vedono il Pikachu che risolve i misteri arrivare su Nintendo Switch. 29 maggio 2019 29 maggio 2019 è anche il giorno in cui The Pokémon Company ha tenuto una press conference che potete trovare anche qui su YouTube, mi raccomando, nella quale Zunekazu Ishiara, CEO di The Pokémon Company, ha detto le avventure nel film sono finite in modo tale da poterci permettere di avere un finale diverso sul gioco che arriverà per Nintendo Switch. Quindi non solo ha fatto intendere un porting, ma addirittura un sequel del gioco stesso. Ed era normale effettivamente aspettarsi un sequel di un prodotto che stava facendo numeri da capogiro. Vuoi che Nintendo non munga una delle sue galline dalle uova d'oro, specialmente Pokémon? e dai. Il problema però è che nonostante si abbiano informazioni ad oggi sul fatto che il videogioco esiste, a quanto pare in qualche server mistico, che potrebbe benissimo essere bersaglio di hacker e che potrebbe essere pieno zeppo di informazioni riguardanti Nintendo, anche dati confidenziali che potrebbero essere poi divulgati, come è successo per l'attacco tramite un noto hacker che ha rubato informazioni riguardo Pokémon. Non è possibile quindi che il titolo di un gioco che ancora magari non esiste sia stato inserito in Monster Ranger, in un gioco che magari riceverà un aggiornamento ed eliminerà questo piccolo leak? non si sa cosa è di preciso. Magari Detective Pikachu 2 verrà annunciato quest'anno come titolo spin-off della serie durante il Pokémon Presents. Ad ogni modo, essendo di parte, devo dire che non mi dispiacerebbe tornare a calcare le scene di Detective Pikachu. È stato un titolo spin-off diverso dagli altri, una boccata d'aria fresca rispetto ai soliti giochi mainline che, per quanto possano piacerti, ehi, Detective Pikachu ti permette di fare qualcosa di diverso davvero. E, aprendo una piccola parentesi riguardo un possibile sequel del film, Justice Smith, l'attore che interpreta Tim, ha detto di non avere troppe speranze riguardo un possibile sequel, visto che probabilmente non accadrà. Mi piacerebbe partecipare in Detective Pikachu 2. Non so però se accadrà. Penso che non dovremmo avere troppe speranze. Onestamente sono un grande fan, ma chissà, ci spero. Ovviamente non è che ti può dire se lo facciamo o no non lo facciamo. Magari l'attore non sa neanche se ci sono piani di sviluppo per un sequel del film. Per motivi di logica non puoi ripetere quello che è successo nel primo Detective Pikachu. Ci vorrebbe una formula un po' diversa. Ma nulla vieta appunto di viaggiare un pochino e cambiare un po' le carte in tavola. Qualcosa di nuovo potrebbero comunque trovarlo. E stando a Monster Rancher dovrebbe esserci qualcosa in arrivo. Il video termina qui. Non ci sono altre notizie riguardo il videogioco, se non riguardo il film. E tutte riportano la stessa notizia. Justice Smith, attore di Tim Goodman, incerto sul sequel di Detective Pikachu. Ma riguardo il film del videogioco non si sa altro. Ad ogni modo il video termina qui. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Date un'occhiata in descrizione per i link a Instagram e Telegram. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.